Nel giorno scorso abbiamo completato una ricerca condotta in collaborazione con il professor Violi dell'Università di Roma, La Sapienza, che aveva come oggetto dello studio il capire perché i pazienti affetti da Covid-19 hanno un'aumentata incidenza di malattie trombotiche, arteriose o venose, quindi infarti e embolie polmonari. In questi pazienti abbiamo già osservato come i livelli bassi di albumina circolante erano predittori di un aumentato rischio trombotico e di un aumentato livello circolante di didimero che è un indice ematico del rischio trombotico. In questo studio che abbiamo appena completato e pubblicato su una prestigiosa rivista di emostese e trombosi abbiamo dimostrato come l'infusione dei pazienti con Covid-19 e bassi livelli all'ingresso di albumina, l'infusione per 7 giorni di alte dosi di albumina non solo ripristinavano i livelli deficitari di albumina ma determinavano un crollo dei livelli di didimero, questo marcatore di rischio protrombotico e anche una riduzione, anche se era un numero limitato di casi in questo studio preliminare, di mortalità. Adesso stiamo completando questo progetto con un secondo studio più ampio di intervento con endpoint della mortalità per dimostrare se l'albumina associata all'eparina può potenziare la profilassia antitrombotica nei pazienti con Covid-19.